In Viale Santa Vendracce arriva la pista ciclabile e meno parcheggi. I commercianti hanno detto da loro, nei fatti sono contrari. Cosa ne pensa chi vive o chi frequenta Santa Vendracce? Salvatore Sarais, lei cosa ne pensa? Sono un nemico alle piste ciclabili perché bisogna vederli sabato mattina e la domenica sulla Poeto e sulla statale Villa Simir. Camminano a ventaglio, se suoniamo ci mandano al creatore ciclino e poi se li investiamo abbiamo sempre colpa loro. Qui il fatto che nel Viale Santa Vendracce arriverà una pista ciclabile sarà realizzata? Assurda, è inaudito. Togliere ancora di più i parcheggi che già sono pochi. Allora non faccia acquistare macchine il sindaco, imponga di non comprare più macchine. Ci sono delle famiglie che hanno la possibilità, ci hanno quattro macchine, dove devono parcheggiare se non ci sono i palazzi con i garazzi? Punto interrogativo. Ce lo dica il signor sindaco questo? O ce li risolva a lui i problemi delle strade e dei parcheggi? Sentiamo anche un altro residente, lei è? Tre generazioni, Bruno e Matta. Abita qui appunto? Sì, sì, abito qui. Lei cosa ne pensa? Lo stesso che ha detto il signore, non è possibile. Perché? Perché qua ci sono attività che se mette come si chiama dei piccoli ciclabili, è chiaro che questi vanno a remengo tutti, perché non c'è spazio per parcheggiare, il cliente non scende dalla macchina a favore di mettere la multa e così è. E questi signori qua che lavorano onestamente sono pregati. E lei da residente che disagi pensa di vivere? Innanzitutto deve guardare la strada e si faccia qualche fotografia, e uno vicino alla fermata, qui a 150 metri, e vede a che condizioni è la strada. Ma stia scherzando il signor sindaco che vada a farsi benedire. Lei invece cosa ne pensa? Piste ciclabili nel viale, da un lato e meno parcheggi? Sono contrario completamente. Perché? Perché non fa. Qui se mettono pista ciclabile, qui è l'entrata di Cagliari. Tutte le macchine, i camion passano di qui. Se fanno la pista ciclabile, questa strada di Santa Vendracce diventa la metà. e non c'è spazio neanche per camminare a piedi con queste piste ciclabili. Si è visto che a Cagliari non si vede una bicicletta camminare nelle piste ciclabili. Non se ne vede una. Allora che cosa servono? Lei è il signor? Giovanni. Cognome? De Lunas. De Lunas.